Il presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati, invitata dal sindaco Alessandro Ciriani, è stata ospitata in città per una visita istituzionale. All'accoglienza sotto la loggia è seguito l'incontro nello studio del sindaco in municipio e una visita nel centro storico. Successivamente è incontrato all'ex convento di San Francesco i parlamentari del territorio, le autorità locali e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle realtà imprenditoriali pordenonesi, che le hanno illustrato le qualità produttive, economiche e culturali e le potenzialità di quest'area, che così ha commentato. È un territorio che dà speranza all'Italia, una terra piena di risorse, piena di attività, piena di voglia di fare, in momenti difficili come quelli attuali, con una crisi economica che ha colpito non soltanto l'Italia, ma ha colpito il mondo, dopo la pandemia adesso abbiamo la guerra, qui c'è un'economia che è in controtendenza, una produttività che è quasi in aumento, che è la dimostrazione plastica di questa voglia di fare e di produrre. È una zona ricca di eccellenze, quindi è un messaggio di speranza per tutti gli italiani. Al Sindaco le riflessioni e le considerazioni sui contenuti della visita della seconda carica dello Stato. Alla Presidente Casellati abbiamo mostrato alcune delle tante eccellenze che caratterizzano questo territorio e la Presidente è rimasta entusiasta, la cosa è frutto di grande compiacimento per me. Da sindaco abbiamo tenuto i complimenti per come è tenuta la città, per il fatto che coniughe capacità imprenditoriale a cultura, l'eccellenza dei nostri poli formativi. Per noi questo è un momento di felicità, ma anche un monito per continuare su questa strada, soprattutto un momento di difficoltà economica come questa, in cui l'alleanza tra le imprese, la cultura e le istituzioni risulta vincente.